E' la rivoluzione nell'offerta turistica e culturale della città. E' Bergamo Card 24 ore. I numeri sul turismo bergamasco parlano chiaro. Negli ultimi 4 anni i passeggeri che transitano all'aeroporto di Orio al Serio sono raddoppiati, dall'8 al 16%, un dato che ha mostro le istituzioni a creare una nuova proposta dopo le versioni da 48 e 72 ore, lanciate nel 2010. Nasce così Bergamo Card 24 ore, un pacchetto che a soli 10 euro permette l'accesso a molti musei della città, il trasporto sulla rete ATB e TEB, prezzi ridotti nei musei della provincia e sconti per un anno in negozi, bar e ristoranti. Adesso lanciamo la 24 ore perché abbiamo compreso che è una richiesta forte che viene dal mercato, molti turisti ce l'hanno sollecitata. La 24 ore sarà 10 euro e quindi sarà anche particolarmente conveniente perché se voi considerate anche solo l'incidenza del trasporto, il fatto del prezzo dall'aeroporto alla città, nei trasferimenti cittadini o le funicolari, consente poi di avere a prezzi veramente molto ridotti l'accesso ai musei della città. Lo scopo è di promuovere Bergamo a tutto tondo e prepararla al grande evento delle esposizioni nel 2015. Dopo un primo passaggio in città possa diventare una card prima provinciale e questo è un progetto ancora più ambizioso, un auspicio diciamo, possa diventare addirittura regionale in occasione dell'expo. Noi indichiamo quattro itinerari che non sono ovviamente una duplicazione delle guide, sono quattro itinerari nella speranza magari che i turisti ritornino per fare quattro visite alla città.